dove comprare infissi in pvc? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 e ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi gli infissi in pvc possono essere acquistati o da un piccolo artigiano compra e rivende del materiale da dei rivenditori di marche conosciute o da un produttore queste sono le tre possibilità e il pvc è un materiale che per rendere bene deve essere prodotto con un processo industrializzato quindi un piccolo produttore diciamo che te lo sconsiglio perché è molto difficile che possa garantire i livelli di qualità di resistenza e tutti i test magari di rottura che devono essere fatti sul tipo di materiale che ha particolari problemi di resistenza meccanica che invece una grande azienda è soggetta e fa regolarmente un piccolo artigiano se si affida ad un'azienda su un produttore di infissi conosciuto compra e rivende e ha delle ottime differenze di poso in opera e di assistenza potrebbe essere una buona scelta come potrebbe essere una buona scelta anche il grande rivenditore però qui bisogna vedere il grande rivenditore come appunto gestisce poi la dopo la vendita la poso in opera la progettazione l'assistenza è facile scoprirlo magari leggendo le recensioni pure chiedendo con chi a quelli che hanno già lavorato con quell'azienda e poi un'altra cosa importante è sapere perché devi comprare infissi in pvc è per casa tua o è per una casa da vendere o da affittare perché se una casa da vendere o da affittare potrebbero andare bene anche dei pvc più economici perché magari dici se l'affitto per dieci anni poi quando ho finito tutti i mandati magari cambia ancora tutto quindi da bene con cose di economico a quel punto potresti andare anche sulla grande distribuzione se non hai particolari pretese come vedi anche per questa domanda non c'è una risposta secca sì o no questo quello dipende un pochettino dalle esigenze e dipende un po da chi c'è dall'altra parte e di base sconsiglio comunque piccoli produttori per infissi in pvc se devi scegliere nuovi infissi per casa tua o anche il tipo di materiale magari stai cercando pvc ma ancora non sai se è meglio l'alluminio o se è meglio il legno puoi fidarti un servizio di consulenza con sistema bisacchi ho creato questo servizio perché non possiamo aiutare i clienti di tutta italia infatti cerchiamo di lavorare principalmente nelle zone qui adiacente alla romagna e con questo servizio posso aiutare con un consiglio disinteressato a scegliere la finestra giusta e il venditore o rivenditore giusto di quella finestra su vuoi saperne di più vai su www.blogvisacchi.it e richiede la tua consulenza ciao e al prossimo video ciao 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 ciao